Ciao a tutti i dreamers, miei matissimi sognatori, io sono Francesca e bentornati sul canale, bentornati in un nuovissimo video di A-Day Tush 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 E vi anticipo già che in questo video avrò bisogno di voi Ho cliccato play sul mio iPad sperando sempre che tutto funzioni, dita super extramente incrociate Ma ho un nuovo evento iniziato grandissimo Perché dico che avrò bisogno di voi? Ragazzi avrò bisogno di voi perché nel corso di questo video vi chiederò un consiglio E se siete curiosi di vedere questo video, se volete più video su A-Day Io ammetto che questo gioco vi sta piacendo tantissimo e ci sto giocando davvero tante tante ore al giorno Lasciate un bel mi piace adesso iscrivendovi anche al canale, tappando la campanella così non perdrete nessun video news Vi anticipo già che giovedì ci sarà una nuova fantastica live qui sul canale E come al solito tutti i vari link utili, instant gaming, care oboxi, sconto, le nostre magliette sarà tutto giù in descrizione Allora mamma mia oggi fa un caldo terribile ma io ho il mio fantastico ventilatore che spero che non si senta troppo in sottofondo Poi abbiamo la scatola di candele Queste candele risalgono al nostro primo compleanno Usale per decorare una torta di Enia di questi 10 anni Partecipa all'evento speciale dei visitatori E saremo noi a ringraziarti con un regalo davvero eccezionale Ed è partito youtube Non mi è ben chiaro che cosa è successo Ma ok visitatori Ho dei visitatori? Uhuh no Uhuh no Allora Ho venduto qualcosa In realtà come al solito ringrazio i fantastici componenti del clan Presto 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 Toglieremo quelli che non sono stati e andati via nel derby scorso E faremo un refresh e porteremo nuove persone Allora infatti nel derby scorso ragazzi Posso chiedere queste ricompense Perché siamo arrivati appunto quarti E ci sono rimaste davvero malissimo Però ho notato che quelli che hanno partecipato Hanno fatto tutte e cinque le missioni Quindi non lo so Sono davvero davvero confusa Ma capiremo che cosa chiedo Lascia la pala o la mela Credo che chiederò la pala Di asce ne ho più che abbastanza Ok che cosa rimane nella rega L'eclute Va bene Va bene ragazzo E dovrebbe essere iniziato il nuovo derby Ok quindi finiamo questo derby E poi cambiamo persone Allora Questo derby Barca miniera Aiutata Consegne Cibo Nutri 117 animali O completa 6 consegne Facciamo queste qui Prendiamo queste qui Delle consegne E infatti in realtà Sono anche mezza pronta Allora qui Avevo già fatto Ah lo zucchero Ok mi sa che non ce la faccio Vero? 7 ore per completarlo Devo mettere Ok mi serve lo zucchero Vabbè ragazzi Come al solito Io qui Sono sempre convinta Di aver fatto tutto Perfettamente Ma invece poi mi impallo Allora ho bisogno di fare Lo zucchero Metti a fare lo zucchero Anche se devo completare Le consegne No Che posso fare Gli animali Devo fare Ok Il granaio è pieno Tanto per cambiare Questo granaio È la mia rovina Ragazzi Perché per me Aumentare la capacità Mi servono 6 bolloni E 10 nastri adesivi Nastri isolanti È un casino Allora Ho tantissime tantissime persone Che ho aiutato Quindi ottengo tutto Non ho ottenuto tutto Ho ottenuto tutto adesso E siamo quindi A 25 Buoni In realtà potremmo Già prendere questo Ma in realtà Ma penso Che andrò A prendere Secondo voi Pacco misterioso grande O Pacco Decorazione misterioso Mi piace di più Questo qui Delle decorazioni Perché così magari Potremmo Fare qualcosa Di più carino Allora Che cosa vendiamo Vendiamo le uova Vendiamo Niente Vendiamo le uova Per il momento Ok Craig 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 per il momento Non mi serve niente Sono più che Più che cose A sufficienza Riguardanti Craig Ah ho completato il pass Il setiero del pass Ho completato tutto il setiero del pass Mi sento davvero fortissima Iniziamone a dare Tre di questi E il burro mi serve Perché devo fare i popcorna Al burro No Ah no Devo fare i popcorna Normali Vendiamo Ok Non mi dice Ah ok Fattoria di Lorenzo Per quattro Vivi per uno Grazie mille Grazie mille Ragazzi Grazie 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 Allora Quindi secondo me Qualche popcorno E invece no E invece no Però possiamo mettere Assolutamente A farne altri Poi in realtà Avevo messo a fare cose Che anche non mi servivano Ma le ho iniziate a mettere a fare Magari prima o poi Mi trovo che mi servono le cose La latte Lo possiamo mettere Un secondo Ok Abbiamo preso tutto il latte Nel frattempo Le diamo questo Sì Perché tanto Ho dieci Dobbiamo sistemare la fattoria Raga In un prossimo video Sistemeremo Senza ombra Di dubbio La fattoria Perché cioè Siamo in una Situazione disastrata Con questa fattoria Proprio brutta 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 Quindi ok E prendiamo Altro latte Da queste mucche E quattro In realtà Ce ne manca una Che lì che dorme L'avevo messo a fare Ok Poi in realtà Con la missione Adesso che dobbiamo fare Nutri gli animali Pecorelle Sono troppo troppo carine Devo mettere a fare cibo Per le pecore Ok Galline E vabbè Con la questione Adesso del nutrire Le galline Sicuramente Andremo a mettere A sistemare Quindi il prossimo video Ragazzi Sarà assolutamente Sussistemiamo La fattoria E il granaio È pieno Facciamo così Ho tutte queste cose Queste non le ho fatte ancora Perché 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 Mandiamo queste cose La mia fattoria Ha bisogno di aiuto Che succede bro Che vendi qualcosa Che mi può servire No Per il momento no Hai bisogno di aiuto Uh Cassa Uh Ma queste ce ne ho Ce ne ho abbastanza In cosa hai bisogno di aiuto Bro Mi perdo sempre Vabbè Forse qualcun altro L'ha già aiutato È probabile O io sono cieca O qualcuno L'ha già aiutato Bella fattoria Però mi piace molto Come l'ha sistemata Mi piace davvero molto Allora Poi Mandiamo questo In questo modo svuotiamo Anche Un po' la fattoria in se per sé Maialino Il granaio è pieno? Come il granaio è pieno? Bro Mmm Ok Loro hanno fame Quindi iniziamo a togliere Un po' di cose Prendi questo Diamolo Ai maialini Uh Uh Quindi mancano soltanto Queste Ma non ho abbastanza cibo Per tutti Mi sa Non ci ho pensato proprio Non ne ho fatto abbastanza Per tutti Ma perché ne ho 5 Drama ragazzi Drama Super Extra Mega Drama Poi fatemi sapere A voi cosa piace vedere Su Eday Cioè io La maggior parte Dei video che faccio Qui su Eday Sono io che gioco E vi mostro Cosa sto facendo Cioè come procede La mia fattoria E così via Ma voi fatemi sapere Nello specifico Che cosa vorreste vedere Come sistemiamo la fattoria Come salgo di livello Cose particolari Magari possiamo trovare Qualche trucco Qualche cosa Fatemi sapere Voi che cosa Vorreste assolutamente Vedere Allora Devo assolutamente Mettere a fare A questo punto Tanti Cibo per le galline Mentre di qua Mettiamo Quello per le mucche Sono 3 6 9 E 2 10 Che già ce l'ho E 2 Delle pecorelle Perché mi sembra Ah che no Perché mi sembra E anche i maialini In realtà Il maialino di cosa ha bisogno Sempre le fave Che io chiamo fave Ma fave non sono Va bene Iniziamo a Questo mi sa che bisogna Comprarle Queste bisogna Assolutamente Un giro della ruota Inorresica 3 Dai fermati Paletto Che male non è Facciamo un altro giro E sono al granaio Pieno Eh Ah no E' andato lo stesso Perché con il giro della ruota Giustamente Ok E che posso vendere Vendiamo altre uova Sto conservando Tutte queste cose Il paletto Ne ho soltanto 6 Riconsigliatemi Qualcuno di questi Per esempio Questi li posso Iniziare ad aprire Vedete Questo ne vuole di più Ditemi un po' Quali dovrei Magari qualcuno Lo inizio già ad aprire Consigliatemi Quale dovrei Aprire Ok Questo prendiamo Le mie gemmine Sto accumulando Tantissime A lana E le magliette Così ho finito Le magliette E poi resta la lana Poi dobbiamo mettere A fare altro zucchero Che però Stiamo lavorando Per fare lo zucchero Popcorn Al burro Va bene E Questo Questo dovrei Potrei farlo Sì infatti Poi Questo anche Lo possiamo fare Perché 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 Il pane L'ho fatto L'altro giorno Quindi Ok Ho abbastanza pane Possiamo mandare Questa lana E ho rifatto Tutti I tolini Allora Popcorn piccanti Questo è torta La torta Forse la posso fare Poi Che cos'era Il L'uovo Con il bacon Va bene Ho finito lo spazio Questo Ok Va bene Devo mettere a fare Quindi No Dimmi Va bene Non devi Va bene Devo mettere a fare Altri di questi Ok Vediamo un po' Greg Che cosa vendeva Greg Sicuramente Vendeva qualcosa Che mi serve Esatto Tipo le fave Ok Andiamo al centro Vediamo un po' Se qualcuno Magari Popcorn piccanti Per 10 Aspettate Com'è la situation Ok No Ho spazio Se non vedo La cosa che mi interessa Popcorn piccanti Per 10 Cotone In realtà Per il momento Mi servirebbe La soia Non vedo Nulla Di Utile 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 Per il momento No Infatti Mi servirebbe Più la soia Per Piantiamo E va bene Che cosa piantiamo Grano Che ho finito Cioè ora Ho finito tutto Cioè ho finito Praticamente tutto Perciò il mio Granaio È libero Cioè capito Perché ho finito Non c'è più niente È normale Quanto vuole 4 ore Vabbè Nel frattempo Gran Turco Ce lo mettiamo Un po' Che comunque Mi serve E qua metterei Sia le carote E un po' Di questo Queste sono le cose Principali In realtà Che mi servono Questa Ha giusto La mia Vabbè Quindi Questo No Ok Vediamo Magari si è riaggiornato Con qualcosa No Però il grano Potrei comprarlo Ha venduto tutto Vabbè Sempre così No Io vedo la cosa interessante Nel volantino Nel volantino E l'hanno già venduto Potrei anche comprare La fonderia Che costa 12.000 Non posso sbloccarle Entrambe Quindi devo fare una scelta E ho bisogno Del vostro consiglio Voi cosa mi consigliate Di fare? Miniera? Miniera? O barca? Nel prossimo video Quindi sbloccherò Quello che voi Mi direte Di sbloccare E in più Faremo Anche Sistemeremo La fattoria Quindi il prossimo video È il video Di sistemazione Fatemi sapere Quindi che cosa Ne pensate Datemi dei consigli Mi raccomando Per me sono davvero Davvero fondamentali Ho bisogno Del vostro aiuto Fatemi sapere Se questi video Vi stanno piacendo Con un mi piace Con un commento Fatemelo un po' sapere Non dimenticate Di consigliarmi Davvero davvero Ho bisogno di voi E se non siete ancora Iscritti al mio canale Dovete assolutamente Rimediare subito Cliccando qui sul pallino Con il mio faccione E poi sul tappino rosso Tappino Tastino rosso Lo scritto Iscriviti Mentre se volete vedere Altri video presenti Sul mio canale Vi basterà cliccare Sulle viniature Io vi saluto E ci vediamo Domani alle 15 Con un nuovo Fantastico video Ciao